Benvenuti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui oggi per il ritorno della zona caffè di Serie B Ragazzi si è conclusa tutta la giornata numero 16 di questa Serie B Una giornata un po' particolare che non ci ha riservato grandi sorprese Ma che comunque ha detto la sua Io partirei da Perugia-Vicenza che è la prima partita che si è giocata Ragazzi un Perugia che va a vincere 1-0 contro il Vicenza Una partita che ho visto a tratti Però io mi sento di dire che ancora una volta il Vicenza non ha assolutamente Non meritava assolutamente di perdere questa partita Un Vicenza che adesso ragazzi fa fatica in classifica E penultimo con 7 punti agganciato anche dal Pordenone Però un Perugia che alla fine ragazzi facendo la sua partita Sempre una partita ben compatta in difesa Con qualche anche piccola fortuna all'interno della partita Il Perugia vince però per me alla fine il Vicenza ragazzi Non meritava assolutamente di perdere questa partita Cosenza 2 Cremonese 0 Stiamo ritrovando la vera Cremonese ragazzi E più che altro voglio anche dire una cosa In negativo sul Cosenza una squadra che si sta perdendo Una squadra che se all'inizio aveva un'identità Aveva sorpreso, faceva gol, sorprendeva, faceva punti Riusciva a portare anche a casa partite sporche Ecco in questo momento mancano tutte queste componenti Ha un Cosenza che è da tante partite che non vince una partita E sta facendo veramente molta fatica a raccogliere qualche punto In questa partita c'è poco da dire ragazzi Una Cremonese che da quando l'arbitro ha fischiato l'inizio della partita E poi quando l'arbitro l'ha conclusa E' una Cremonese che ha sempre dominato il gioco In tutto e per tutto E che ha vinto meritatamente questa partita Adesso ci troviamo una Cremonese ragazzi Che comunque è quinta a quota 26 punti E nelle ultime 5 non è che ha fatto tante vittorie Perché sono due vittorie, due pareggi e una sconfitta E un Cosenza che per l'appunto nelle ultime 5 Ha raccolto solo un punticino con 4 sconfitte Quindi c'è tanto da lavorare per Zaffaroni Che deve un po' ritrovare quella chiave Che aveva trovato in inizio stagione Perché così in questo momento il Cosenza Per il Cosenza diventa molto difficile salvarsi ragazzi Frosinone 1, Ternana 1 Partita bella, molto molto bella Mi è piaciuta molto la partita che è andata in scena Al Benito Stirpe di Frosinone Una partita intensa Una partita sicuramente anche caratterizzata Dall'espulsione di Federico Gatti al 26esimo Dove un Frosinone è andato in vantaggio Il 16esimo con una grande Con un grande gol di Charpentier Non un grande gol nel senso Con una grande stagione fino a questo momento Di Gabriel Charpentier Un attaccante francese Che si sta rilanciando quest'anno a Frosinone Perché l'anno scorso ho letto un po' L'ha fatto parecchio male Quest'anno sta facendo molto bene Mi sembra che questo sia già il quinto Barra sesto gol che trovo con la maglia del Frosinone Possiamo dirlo un giocatore decisivo Nella chiave tattica di Fabio Grosso Poi Gatti per l'appunto si fa espellere al 26esimo Però puoi pettinare ragazzi al 51esimo Col cuore, con la grinta, con la qualità Perché la Ternana ha qualità soprattutto davanti Riesce in qualche modo a pareggiare questa partita la Ternana Comunque è una partita nel complesso Anche ragazzi abbastanza equilibrata Mi è piaciuto molto come partita Era sempre una partita molto molto intensa Due squadre che comunque si sono equivalse Per larghi tratti Ma per l'appunto anche come diceva Una partita comunque caratterizzata tanto Dall'espulsione di Gatti Non so se la Ternana avrebbe trovato il pareggio Senza l'espulsione di Gatti Che comunque Gatti è un difensore centrale Quindi comunque in quel caso Poi Grosso ha dovuto togliere un attaccante Per mettere un difensore in più Quindi comunque è cambiata molto la partita Anche come cannavaccio tattico Però la Ternana ha fatto la sua partita Ha fatto il suo gioco Il gioco di Lucarelli ripaga in questo momento Una Ternana decima Quota 22 punti Che sta mettendo mattoncino dopo mattoncino La salvezza Un Frosinone che comunque È in piena zona playoff Ottavo Quota 25 punti Però deve tornare a vincere La squadra di Grosso Perché sono 4 pareggi consecutivi Nelle ultime 4 partite Ragazzi Crotone 1 Spal 2 Non basta Il cuore del Crotone Nei ultimi minuti Non basta Perché è una squadra Che fa fatica a fare gol Trova il gol Della speranza Con Carbo All'ottantottesimo Ma è un Crotone Che fino a prima Ha fatto Non poco Perché comunque È una squadra che crea Ci prova Si vede che i giocatori Si impegnano Però è una squadra In questo momento scarsa Bisogna dirlo E di fronte si è trovato Una Spal Con il coltello Tra i denti Ma una Spal Anche molto Molto cinica Perché lo dicono le statistiche 3 tiri in porta Per la Spal 2 gol Il primo è di Federico Malchiorri Al secondo minuto Quindi subito Parte subito forte La Spal Con una grande Sterzata al match Con il gol Nei primi minuti E poi Mancosu Trova il gol del 2-0 A inizio Secondo tempo Per l'appunto Non basta Il cuore del Crotone Che ci ha provato Fino all'ultimo Una squadra Che fa veramente fatica Una squadra Che ha perso Le ultime 4 partite Le ha perso tutte e 4 Fa pochissimi gol Perché sono 14 gol segnati Di cui 28 Anche subiti Quindi meno 14 La differenza reti Un Crotone Che va sempre più verso La retrocessione In questa stagione A meno che di grandi Stravolgimenti Perché Marino Ha veramente tanto da lavorare Da quando è arrivato Marino Penso che abbia fatto Solo un punto Marino Da quando è arrivato a Crotone Forse a questo punto Non so se era meglio Tenersi modesto Che comunque Una vittoria Era anche riuscita A raggiungerla Anche seppur particolare Quella contro il Pisa All'uscita Però Parliamo anche della Spal Che vince E si toglie Dalle sabbie mobili Una Spal Che in questo momento È 14esimo A 4-20 In fondamentali Due vittorie Contro Crotone E Cosenza Che erano due sconti diretti Per la salvezza Quindi una Spal Che torna a vincere A me non mi convince Tanto la Spal È una buona squadra Ma Cotletta Sta facendo fin troppa fatica Con questa squadra Anche se da dire Che la Spal Ha cambiato tanto Quest'estate Facendo veramente Tanti acquisti Se poi guardiamo tutto Guardiamo quanto è corta Questa classifica di Serie B La Spal Che è 14esima E a meno 5 punti Da comunque Dall'ultimo posto Dei playoff Occupato proprio Dal Frosinone A quota 25 Quindi una classifica Molto molto corta Quella di Serie B Ragazzi Passiamo poi A Benevento Pordinone Non basta Il primo gol Di Buttice Al 52esimo Per il Pordinone Un Pordinone Che in due minuti Prende la ribalta Primo col primo Col gol di Salvatore Delia E poi con Giuseppe Di Serio Che la ribaltano Decisivi I cambi di Caserta Questa partita qua Per me L'ha vinta Caserta Che sfrutta Due minuti Di palla totale Del Del Pordinone E la sua squadra Riesce a ribaltarla Veramente ragazzi Se basti pensare Che di Serio è entrato Il 61esimo Al posto di Acamper Quindi la mossa di Caserta Che gli fa vincere la partita Qual è? Quella di togliere Un centrocampista Per mettere un attaccante in più Per dire Andiamocela a giocarcela Non dobbiamo perdere Contro l'ultima in classifica Dobbiamo vincere Per tenersi Aggrappati Al gruppo Delle prime tre Quindi un Un Caserta Che vince questa partita Con i campi Perché toglie Acamper A mettere di Serio Il 61esimo Che poi al 63esimo Lo ripagherà con il gol E quindi Un benevento premiato Dalle scelte ottime Del proprio allenatore Onore comunque Al Pordinone Che prima di avere Quei due minuti Di blackout Fa anche poi Una buona partita Nel complesso Pordinone ultimo Quota 7 punti Ragazzi Un benevento quarto A quota 28 punti Importanti Le ultime tre vittorie consecutive Dopo le precedenti tre Sconfitte Per Caserta Passando invece A Lecce Regina Lecce Straordinario Straordinario Questo Lecce Che in pochissimo Risolve la pratica Regina Va in vantaggio Meritatamente Dopo mezz'ora di dominio Con Mario Gargiullo Che trova il suo secondo gol Con la media del Lecce Gol importante Che sblocca la partita E una volta che Lecce Sblocca la partita Sappiamo com'è Una squadra che produce Azioni offensive Su azioni offensive Per fortuna La difesa non prende il gol Ma grazie al lavoro Ottimo di Baroni Che sta facendo Da inizio Con la retroguardia Per la fase difensiva Dei propri calciatori Un lavoro importante Quello di Baroni E una squadra che vince Poi trova Il secondo gol Con Maia 61esimo Un gol bellissimo Una grande azione Un'azione da Lecce Che vince Convince Davanti ai propri tifosi Una cornice di pubblico Stupenda Veramente una squadra In uno stato Superbolo Una squadra che Quando gioca Sia in casa Che fuori casa Fa veramente scintilla Adesso il Lecce Ragazzi È secondo A quota 31 punti Quindi un Lecce Che sicuramente Sta facendo un campionato Importantissimo Una squadra che Già con calcio Per me è spettacolare A discapito Di una regina Che invece sta facendo Troppa fatica Aglietti Sta avendo per me Troppe difficoltà In una squadra Costruita anche bene Per me La regina è una squadra Forte La regina non si può Permettere in queste prime 16 partite di campionato A fare solo 6 vittorie E a segnare anche Così poco Perché sono 15 gol fatti E 19 gol subiti E questa è la differenza Tra una regina E il Lecce Lecce ha segnato il doppio Perché sono 29 Barra 30 gol fatti La regina Solo 15 gol Quindi è questo Quello che non si può Permettere alla regina La poca Produzione In fase offensiva Sono 4 sconfitte Consecutive Per Aglietti Che in questo momento Fa veramente fatica Una regina Che per me Ha l'obbligo Di entrare Tra le prime Di entrare nei playoff Visto la spesa sul mercato Fatta questa estate E visto il progetto Che c'è dietro Ad Aglietti Ragazzi Andando avanti Como 0 Pisa 1 Pisa cinico Pisa Che quando deve vincere Le sue partite L'ha vinta E' bastato L'autogol di Filippo Sky Al quinto minuto Per decidere questa partita Un Pisa Che vince molte partite Di corto muso Veramente ragazzi Le statistiche dicono questo Io l'ho vista anche la partita Il Como Non avrebbe Avrebbe sicuramente Meritato Il pareggio E se avesse vinto Non avrebbe sicuramente Demeritato Anzi Meritato Perché il Pisa fa due tiri in porta Di cui uno E' quello decisivo Per l'autogol di Filippo Sky Ma è un Pisa Che comunque dietro In questo momento regge Non prende gol E quindi riesce a vincere Questa partita Tra virgolette Di corto muso Quindi un Pisa Che in questo momento Va forte Si tiene agganciato Alle prime posizioni A quota 32 punti Ragazzi Un Como invece Che comunque Fa le sue prestazioni Le fa Gioca bene a calcio E' una squadra Sempre dentro la partita E comunque sta facendo Un grande campionato Perché E' tredicesimo Quota 21 punti Manca un po' la vittoria Perché in ultimo quattro Ha fatto due sconfitte E due pareggi Però è una squadra Che sinceramente A me il Como piace Voglio elogiare Il lavoro di Gattuso Che per me è un lavoro Splendido Fino a questo momento Ragazzi Asculi 0 Parma 0 E' una partita Dove l'Asculi Per me poteva fare Leggermente di più Un Asculi Stato anche molto sfortunato E mi viene in mente Il colpo di testa Di Salvi Sul palo Poi quando Dionisi Sempre sul Una volta che ha colpito Il palo alla palla Dionisi non la butta da dentro E quindi lì Il Parma si è salvato Negli ultimi minuti Un Parma che poi ha avuto Anche lei Dalla propria occasione Al 94esimo Col tiro di Mudo Vaskets Che si stampa Sulla traversa Però troppo poco Parma Non si vede ancora La mano di Iachini Che deve tanto lavorare Una squadra che fa Fatica a fare gol E per questa partita È stata anche molto Molto fortunata Perché se veramente Se li salvi Al posto di prendere il palo Fa il gol Dell'1 a 0 All'ottantesimo Inoltrato Penso che questa partita Sarebbe finita 1 a 0 Asculi Un Parma che comunque Rimane sempre Nelle zone basse Della classifica Quindicesimo A quota 19 punti Un Parma che non vince Quasi mai Nell'ultimo 5 Ha raccolto solo 3 punticini A discapito Però di un Asculi Che invece va forte Sta facendo il suo campionato È sempre dentro La zona playoff A 26 punti In posizione numero 7 Veramente un Asculi Che mi piace Sottil È un grandissimo allenatore 3 vittorie Nelle ultime 5 Con 2 pareggi E un Asculi Che continua La sua striscia positiva Di risultati Ragazzi Siamo arrivati Alla partita Brescia-Monza Finita 2 a 0 Per il Monza Ragazzi Ho steccato anche Completamente il pronostico Perché avevo detto Uno secco del Brescia Ma il Monza Continua Su questo buon percorso Il Monza Che ragazzi È una squadra Che si è evoluta Stroppa Ha trovato quella chiave Che doveva Che doveva ancora trovare Inizio campionato Adesso è un Monza Che inizia a fare più gol E più propositivo In attacco È una squadra Che riesce per me Anche A dominare Leggermente di più Le partite Per me ha vinto Meritatamente Comunque la partita Contro il Brescia Anche se tuttavia È stata una partita Molto molto equilibrata Ma alla fine Secondo me ragazzi Il Monza L'ha vinta Meritatamente Questa partita E ho visto un Brescia Leggermente troppo in calo Il Brescia Deve iniziare A riprendersi un po' Perché si fa qualche vittoria Poi c'è qualche passo falso Ecco Deve iniziare a dare continuità Alla squadra di Inzaghi Che in questo momento È terza Quota 30 punti Mentre il Monza Accorcia terreno Quindi prende terreno Anche sul Brescia Ed è quinto Quota 28 punti Il Monza In questo momento Dalla promozione diretta Ragazzi Dista solo di 3 punticini Visto che Lecce è secondo Quota 31 punti Quindi Un ottimo Monza Un Brescia un po' in calo Vince la squadra di Stroppa Meritatamente Questo big match Di questa sedicesima giornata Di Serie B Alessandria 0 Cittadella 1 Non l'ho vista Ho visto qualche highlights Comunque voglio spendere Due parole Sulla prova dell'Alessandria L'Alessandria comunque Ha avuto le sue occasioni Ha calciato anche Parecchie volte Volte in porta Ha calciato anche più Volte in porta Del Cittadella Si è reso più pericoloso Secondo me Comunque la partita È decisa Fin dai primi minuti Perché il Cittadella Va in vantaggio Con Alessio Vita Al secondo minuto Dopodiché poi Il Cittadella è ordinato in difesa Fa una buona fase difensiva E riesce a portarsi a caso Un risultato importante Contro una squadra Che comunque Veniva da un buon momento L'Alessandria Aveva vinto Due delle ultime tre partite Aveva perso Poi solo l'ultimo sconto diretto Quello giocato contro Giocato contro il Pordenone E perso per 2-0 Adesso un'Alessandria Che deve ritrovarla La retta via Perché comunque La zona sotto Magari qualcosina Iniziano a fare punti Hanno perso sia Vicenza che Pordenone Ma comunque L'Alessandria Si deve guardare indietro Perché Fare ancora qualche passo falso Di troppo Potrebbe comportare La posizione di classifica Mentre per quanto riguarda Ragazzi Un Cittadella Che sta facendo il suo campionato Ed è in decima posizione E a pari punti Col Frosinone ottavo Che è l'ultima squadra Che accederebbe ai playoff Quindi Un Cittadella Che sta facendo Un campionato in linea Con le aspettative Fatemi sapere la vostra Questa con un commento Mi raccomando Pollicione sul video Iscrizione al canale ragazzi Mi raccomando Molto molto importante Noi ci becchiamo Un prossimo video Bella ragazzi